ma sei il solito che quando forza horizon si diamo misterio ti ha inviato giunto come un amico no provo a rimandarmelo per piacere dovrebbe essere mi stava parlando bella bella mitici maestria auto wow baby come fatto come fatto ti dà di più ti dà di più una modalità che ti darà mai più eh ma davvero un'auto nuova è stata aggiunta al garage bene baby vai a casa giusto no ok una casa bella ragazzi mitici dai che stiamo già aumentando il numero stiamo giocando facciamoci una bella giocata insieme ci divertiamo con forza horizon e grande amico mister ciao mister benvenuto allora ma cazzo faccio uscire ragazzi io non gioco cosa c'è cazzo faccio uscire ragazzi cazzo faccio uscire ragazzi cazzo faccio uscire ragazzi cazzo faccio uscire ragazzi ricominate cosa non è strano Facciamo un po' di sgarezze, facciamo un po' di cledicine anch'io. Bisogna andarci sopra proprio per prendere le gare, bisogna andarci sopra proprio per prendere le cose da fare. Ok, tira. Se tu ho la macchina e sei caduto dentro nel lago, devo cadere anch'io nel lago. Non sopra la macchina. X per partecipare. Prendi l'auto in prestito. Proprio mi fai partire da due settimane che non ci gioco più con un'auto che va a 376 all'ora. Eh? Da Bugatti? Hai la tua? Ah sì, guarda la tua. Proprio festeggiano che non abbiamo neanche fatto la gara. Questa? Oh, bello. Che figa allora. 999, al massimo eh. Un po' c'è di più di 999. Già solo a partenza e alla tutta sorta. Questa non è la prima gara, no? Beh, che me la ricordo. Ma qui come funziona? Se vince uno dei due sei dentro, vincono tutti due? Ah, quella merda. Eh no, la devi fare gare più tranquilla, eh? Se queste macchine qua si litola poco. Io preferisco la forza, è un po' più lenta Quando in gioco il controller è una cosa pazza Non mi sto trovando tanto Allora se si che ognuno fa sè Non mi gioco per nulla Se avevo una collezione credo di farla ma vanno veramente tra un po' vero Face a me E' troppo alto Allora entriamo nella mia partita che è tutto il problema Io non ho sbloccato un cazzo Allora entriamo nella mia partita che è tutto il problema Sì, ho sbloccato un cazzo Ma sai Ma è tutto Oh ragazzi, un po' è arrivato, un po' è arrivato, un po' è arrivato L'acceleratore va a destra a sinistra, senza mando dritto E' un po' è arrivato, un po' è arrivato, un po' è arrivato, non lo so renunciare io ma non si è impresso è zero punti no dai zero punti no allora ragazzi allora voglio dirmi come si fa a uscire aspetta che sta caricando mi sono rotti gli auricolari cazzo con le cuffie è una rottura di coglioni mi arrivano domani mi sono rotti gli auricolari della Play quelli che usavo e mi arrivano domani le cuffie allora online non voglio giocare online con 11 merdosi ma tu sei uscito ma scusa ma non c'entra niente a uscire e entrare perché tanto o io sono nella tua partita adesso eh appunto con tutto sbloccato vedo tutto sbloccato nuova è questa non si può andare veloce non me lo ricordo più sto gioco bisogna andargli proprio sopra come fai ad andare a iniziare subito la la partita se schiacciare imposta percorso y in percorso di gruppo io c'ho il sì per fare la gara veloce subito come si fa no non hai capito quello che mi chiedo adesso lo stiamo facendo sta gara non la vedi tutta la guarda madonna è tutto distorto aspetta un secondo le problematiche con l'audio non ti esce ho schiacciato il postal tragitto per tutti vedo quello che intendo io voglio fare quella gara qui che ce l'ho nuova che è l'ho fatta non si può andare direttamente no bisogna andare lì sopra ah ok aspettate turn around when it is safe to do so recalculating route però come ne ricordavo più c'era il salto rapido 200 meters turn right che mi sembrava di averlo fatto la prima settimana che ci ho giocato quando ero qui te l'ho fatto un salto rapido ma perché una volta che fai la gara forse poi ti può fare la prima volta che ho giocato l'ho fatto un salto rapido ma perché una volta che fai la gara poi ti puoi ritornare su un salto rapido un salto rapido turn right turn right turn right ok io sono arrivato ho provato a staccare anche il volante della logitech di 923 o non funziona un bordello ne penso che ti è arrivato partecipa all'evento prima avevo cooperativo adesso non me lo fa vedere più ha abbandonato la caravana hai abbandonato e non c'è più non ho l'eventa cooperativa non ce l'ho più non è più attiva turn around when it is safe to do so ok ok allora la faccia non me la faccio a qui Come se mi fa partire la gara, come lo faceva vedere qui. Partecipa, operativa, poi scegliere la macchina in attesa. Eccolo qua! Eh sì, io vado con questo, sono all'inizio quando ci va piano. Tu mi vai comunque lì a 300 l'ora, non ci sto niente. Il cervello deve adeguarsi pian pianino. Il cervello si deve adeguare un piano pianino, crescendo. Cosa che si trova qua? Sprinta di Serra Verde. Ma poi cazzo di gara, sei serio? Dobbiamo fare questa con la nebbia? Sì, non cazzo di gara, non cazzo di gara, non cazzo di gara. Non cazzo di gara, non cazzo di gara, non cazzo di gara. Sì, non cazzo di gara. Guarda, questo per pizzo devo tenerla fuori la macchina, non se la faccio tenerla dentro. ho scritto qualcosa e hai fatto la curva pulito ma che roba guardate mi ha buttato fuori dai non li buttami fuori è facile dai cazzo perché non va più sta macchina è successo dai cazzo se io freno mi solpassano ragazzo è sta storia poi salire fu tutto l'ambaradan qui così su di livello non riesco a prendere il pezzo mi danno via sul dritto appena ho superato quelle macchine che vanno dietro che andavano più lente vanno che non riesco niente a prenderle ma è dei cavalli miei come cavalli è dei cavalli miei o facciamo tutti i cavalli che hanno tutto il gruppo uno per due metri non sono arrivato secondo non riesco a prendere i cavalli miei o 5.000 punti allora come ora dove cazzo dobbiamo andare allora stabilire un percorso dai smettila allora questo continua a dirmi stabilire la strada completa tutte le gare su strada Questa c'è qua vicino La vedi tu? Mi te la dà? Vedi tu Perchè 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 Eh, ma c'è un'c'è omitè 2 è rossa si ma mi trovo bene con questa perché non va a sbattere come una chiave adesso finita con la cellula e cosa fa? a casa d'aste cosa fai? hai trovato la carta di challenge un altro driver di horizon vuole testare le stagioni sei a questo? attività bloccata durante una carovana ok non si può questa non si può fare eh attività bloccata se sei in carovana ok era questa qua questa guarda pista di accelerazione non so ma sono un po' più di dietro forse si guardiamo ma che si pare lente ok forse si pvp che cosa vuol dire? allora c'è una macchina è qui solo accelerazione fatto è un po' più di dietro è un po' più di dietro che macchina è questa qua? una zonda cosa è che è? la bugatti veron o la zonda? non mi ricordo non è clara se io non ci ho fatto caso sto rispondendo dal cellulare perché non c'era bugatti? vabbè grazie al cazzo è di accelerazione eh eh figa già hai preso che c'ha due due cavalli in più ma è solo accelerazione o è tipo eh vabbè non c'è neanche il quadro non c'è neanche 3,2,1 non c'è neanche non c'è neanche non c'è neanche il turbo qua ho tenuto premuto R2 come cazzo fa non essere partito dopo c'è un problema di lag questo gioco eh sì è una macchina di merda la prende da stesso non si fa a rifare sta merda mi dà tutte le volte aspettare che finisce ok vabbè ho capito ma devo capire non si può rifare subito no per altre volte le fa sta cagata vediamo se io vado faccio subito x qua no è in fondo la pista no sta andando da qualche parte mi ha aperto un settimo la camara non sta dritto non sta dritto non sta dritto Allora, dov'è il circuito? No, non voglio il circuito, ma dov'è il inizio della gara qua. Ok, ok. Stiamo a mettere l'alene, cosa di meglio no eh? Non c'è un cazzo, la macchina più veloce che ho. E' la macchina più veloce che ho. Oh, hai fatto qualcosa che non hai accettato? Ma, come lì? Ah, in attesa, certo. In attesa. No, in attesa di altri giocatori dice. Ok. Eh, serve sarà, serve il metodo. Inizio lo su... Chi si? Un saluto? No, sta andando. Boh, non lo so. La corvette. In attesa della prossima gara. Ma cosa sta facendo, figliata? Organizzazione aumento. Ma cos'è? Un saluto? Un saluto? Ah, sta facendo adesso? Ok. Presentazione, pista di accelerazione. Un saluto? Non so, almeno che mi passa giusto, io sto prendendo R2. Figa, secondo me. Eh, come cazzo è che partono più veloci? ma com'è possibile? ecco, c'è tutto qua ecco, non fai a darci la stessa macchina e a darci un violotto, dai ma non è possibile ma non è possibile sono a metà eh, allora com'è possibile che se abbiamo la stessa potenza ma com'è possibile che sono ultimo sono una gara di accelerazione non è che si va a destra a sinistra ah, qua c'è qualcosa che non va c'è qualcosa che non va allora sarà il joystick che non fa l'R2 in fondo com'è possibile? sono dritto no, no, ho solo schiacciato l'R2 automatico automatico e secondo te? vuoi vedere la live? no, qua c'è qualcosa che non va o il joystick che non non va bene scusa, vieni qua, sei di fianco a me dov'è che sei? non ti muta quando finisce la partita io sono qua dove c'è il disco che si lancia la rampa no, no, vieni qua devo provare non è possibile perché non c'è nessuno ha la stessa roba ma dove c'è la X? dove è che sei? dove è che sei? dove è che sei? ti sto accettando qua eh, è qui io, non ti vedo ma come è questo che arriva? io sono la pina in fondo io sono la pina ero un Ferrari e questo è un corverso già partiamo che le mie macchine sono diverse eh? quindi già è proprio la stessa macchina e un'altra vabbè questa vediamo allora e basta stai ferma cazzo di macchina vai aspetta che così ci incontriamo però se ci vediamo addosso aspetta eh? tieni avanti te che questa macchina di merda non riesce ad andare ok troppo avanti tre dopo il dietro tre due uno via via ero in giro su di in fondo eh vabbè mi passi perché è una sterra di pupido della mia eh allora com'è possibile e guarda quando tu arrivi arriva al salto salta eh capisci perché non gioco online perché non è possibile non vincerò mai ok tu hai saltato adesso io ho saltato adesso tu arrivi primo io ero nono che cazzo ti devo dire non è divertente capisci oh e che fa questo è un gioco baggato eh vabbè cos'è questa roba che c'è tipo un teschio rosso autodromo della selva e io sono nell'acqua cosa faccio tornare indietro infatti c'è già essere in metà mattina in macchina questo non dovrebbe allora può salire allora non andare all'inizio della gara sei qua sei qui o sei già all'inizio vediamo ma non mi fa cazzo vincere o non vincere ma figa se io schiaccio R2 tu schiacciare R2 sei avanti 8 macchine non ne vinco neanche una capisci quello che voglio dire e poi quando acceleri vai indietro di 10 metri non ho capito questa cosa va che cazzo vabbè cioè non si riesce a star dritti vabbè vabbè vai ancora un pelino ancora un pelino ok 3 2 1 via non si riesce non si riesce non si riesce non si riesce a star dritti perché non è 8.41, uguale alla mia quant'è che ce l'hai? ho capito ma io quando vado dentro fare questa gara qua è inutile che mi metti che tu c'hai la macchina da 6.000 e rotti e io, metti questa qua che hai messo adesso scusa ma mi sta cortesia, uguale voglio capire se gli altri si adeguano a quello che tu hai o che cosa capisci eh allora doveva essere arrivato secondo? no no, no cazzo eh, è quello che non riesce a capire come fa ad arrivare, scusa, se ci sono le R2 con la macchina da 800 arrivano o no, no, così, a prescindere non ho capito questa cosa non lo so, dove si vede queste informazioni era 800 e qualcosa eh questo è una è solo una roba di velocità, figa dovrebbe mettere macchine uguali eh, vediamo se ci danno paga o se tu sei inferiore invece di essere superiore come prima guarda 8.29 tu sei 8.29 vedi? R2 premuto fino in fondo ok sono quasi ultimo vediamo se sclu è merda adesso ce la facciamo facciarle guarda questo qui non si riesce a passarle eh, ho capito ma vedi che loro vanno più veloci di noi che è computer era facile ho capito ma non riesco a capirti ma non ha senso fare un gioco che io faccio una gara e computer è più veloce di me sul dritto c'è un 8.38 anche eh eh, ho capito ma fa che non è vedo da dire ma non riesco a capirlo sinceramente vabbè facciamo un'altra pistina un'altra gara allora facciamo una gara a questo punto perché le cose dritte non va nuova c'è una gara qua guarda qui ho schiacciato Y percorso del gruppo qua vicino o poi non mi da mai le macchine non mi da mai eh qua nella ruota vado là qua qui non mi da mai non lo riguarda, non lo stai tutta lì perfetto, devo arrivare scelgo la macchina ok, dovrebbe essere fatto ma dovrebbe essere partita, no? non è partita? è che non si capisce quando parte non ti fa stare tipo di stand-by, non c'è scritto niente io qui sulla Xbox dovrei comprare un pad tipo quello della Play per per trovarmi bene, perché non mi trovo tanto bene qua, sai? eh? no, uno simile, tipo come si chiamano quelli da possibile, quelli della Nacon, quella roba lì non siamo ad averlo visto un pad della Nacon che va bene con l'Xbox che è come quello della Play con i due vicini adesso non mi ricordo che questo modello c'è ma che è da niente oh subito in partenza vedi io uso queste macchine le tiro desivalenti Grazie. Grazie a tutti. Ti con auto 2 si può giocare in cooperativa? Ti con auto 2 si può giocare in co? Quando sarebbe interessante ve lo portavo sul canale ma... Porca miseria sei andato fuori il tema e hai tirato fuori il tema! Non è! No dai il palo! E' incredibile quando gioco? Se qualcuno che esce lo seguo! Nel cervello più forte... Dice segui i colori che stanno uscendo! Ah c'avevo un sacco di... Non lo scuro! Non lo scuro! Quando... Vedi che dà vittoria alla squadra? Dà la vittoria? Così? Quando fai così? Dà dei punti extra? Punti extra! Allora... Quattro? 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 Che cosa sono? è roba figa non ho capito ah noi siamo qui può fare qua 4 capitali ok sto ancora andando alla prima settimana c'erano dei pronti è arrivato adesso è finito con la carovano o con tutti carovano e come si fa auto noleggio addirittura e tu calcola che io ci ho giocato due volte questo gioco quello l'ho abbandonato peraltro è molto bello ma è molto arcade poi all'inizio mi ha problemi di server la prima settimana che era uscito però è anche fattibile nel senso adesso ho fatto ho fatto l'abbonamento nuovo no no sei serio no non l'ho visto davvero no hai girato il pronti umano fa vedere ma perché non fa 3 2 1 questo gioco del cavolo oh tutte le volte ma no a me fa solo via e basta e guarda la mia live non mi fa 3 2 1 ma come non lo vedi come cazzo dov'è che lo fa scusa sopra lo fa ah scherzo ora ora oh oh mamma mia questa va a destra e a sinistra questa macchina che cazzo è sta roba ma cos'è sta schifo ma dai ma possibile non è possibile non è possibile anche tutti i suoi tipi dicono che questo è un stop ma io in decrew non facevo queste cose con le macchine non facevano quelle tipo che eravano sulla scivolina eh sinceramente no tutti che chelificano decrew in decrew le macchine non si comportavano così come se ha la scivolina sotto eh bene non dica tanto sinceramente devo riprenderle in mano ma queste macchine qua sono le macchine sulla scivolina eh eh cosa si ma queste macchine vanno tipo sulla scivolina scivolano non ha tenuta che cazzo è che cazzo in tiruta è che cazzo in tiruta è poi minchia è una roba ingestibile insomma è ingestibile fare le curve cioè tu prendi e fai la curva a destra e si incarta sulla destra e poi non è più gestibile neanche da frenandolo si tira dritta manco morte l'unica che mi trovo io è la ford quella che usavo prima che la uso sempre non uso solo lei tutte quelle stradali mi fanno questa cosa qui tipo guarda che sono ingestibili è una roba mia o che certo ti devo dire però no no è ingestibile però si può passare il tempo così è ingestibile ingestibile proprio ho alo l'ultimo io piuttosto facciamo mezz'ora di là perchè sto sentendo il cazzo ma fammi capire prima se le impostazioni o se il joystick vi devo comprare un joystick serio questo qua non è serio non ho capito madonna che schifo allora dove che si va dentro a vedere scusa dicevi è correre per 0 punti vaffanculo bello 0 punti wow ma perchè poi la dava la stomatina perché la dava ah perché tutti erano la stomatina a me vedrai che ti danno merda il cappello capisci perchè odio sto gioco si va bene ma a me da sempre il cappello la scarpa cosa gli altri gli da le macchine cioè capisci eh che cazzo no non ho fatto un cazzo io mi ha fatto un altro cappello e sto facendo così l'avrà riavviata da sola perchè non siamo riusciti non lo so non si può uscire non ho riavviato un cazzo mister ha fatto tutto lui ma non si può uscire eh abbandona eh è un campionato eh non è una gara è più di una ok negozio, campagna, online, centro, negozio due gazzari, impostazioni, sto già qua campagna impostazioni difficoltà principiante personalizzata anti bloccaggio attivo frenata normale controllo della trazione attiviamolo controllo stabilità attivato cambio solo frenata traiettoria quello va bene ok salva continua accessibilità e dov'è quello che dicevi tu? si sono quelle impostazioni lì quelle che hai modificato se c'è simulazione toglila perchè se la fa utilizzare a me difficoltà drive avatar principiante eh? a che livello ce l'hai? principiante eh facciamo esordiente ancora meno ragazzo ti devo dire allora salva dietro proviamo a fare un'altra gara del merda allora campagna mappa però non questa qui non bisogna fare queste qui quelle blu no facciamo si può fare io ho la schermata della io ho la schermata della live possiamo rifare quella dell'aeroporto? eh ma come si fa ad andare direttamente senza ma tutte le volte tutte le volte manualmente bisogna andare andiamo acquista la mappa del tesoro per scoprire le posizioni come collegamento al server cosa è sta roba che mi stava facendo comprare la mappa del tesoro ma perché si schiaccia il triangolo eh non lo voglio la mappa del tesoro cosa devo fare? ah perché sei uscito? crea una carovana sono amici ok è andato forse è arrivato? come no? oh niente aspetta che devo mi sto dando tre volte della fortuna mila soldi eh volevo provare una gara solo sinceramente eh 30 mila oh neanche una macchina eh neanche una macchina ma come è possibile ma come è possibile mister vuoi giocare eh ma io schiaccio perché non va? perché non va mister forse perché sto facendo la live no schiacciato il tastone ma non è entrato nella nella tua roba ah ok aspetta che mi sto dando un super super wellness vediamo se vinco una macchina no no solo soldi no incredibili incredibili eh la for focus ma data ai calzini aspetta che si vai tu al punto bravo un una posa 200 mila 125 35 niente 35 35 le scarpe mister 35 le scarpe dai ma perché non mi danno mai due passi calzini e una volkswagen gold del 98 ehi ehi mi senti mi senti mi ha dato una volkswagen del 98 la golf volkswagen del 98 bellissimo aspetta che sto riscattando i regali che c'erano qua che è una vita che non entravo dentro devo andare il getto scusami lo sai da pisolata eh ok graficamente spacca ragazzi spacca da paura sì 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 ma già non va prova troviamo eh no bisogna riavviarlo prossima volta eh no e mi dice che devo riavviare il gioco per cambiare le impostazioni io perché è il cirulo adesso adesso aspetta l'auto ok prende auto in prestito la jesco la cunix bello a 220 e dicendo 2020 è l'anno scorso 2022 siamo due anni fa ok 999 non c'è altre persone siamo solo io e te ma io volevo vedere con gli altri io sto tenendo premuto ok già parti più veloce te è bellissima ma capisci che è lag e io ho tenuto premuto a ridire da quando faceva ancora i titoli è quello che ti sto facendo vedere rifai la gara si può rifare no perché ha dato perché ha dato marco drums a me primo che tu vedi più avanti di me e no io ti vedevo più avanti e come cazzo è allora è un effetto visivo non è possibile voglio solo provare oh cazzo com'è c'è un mezzo lago ma come siamo in mezzo lago sì però è che non si possa riprendere una gara fatta e una rotta di coglione mi si è speccato ma non c'entra niente non me ne frega un cazzo di vincere io non riesco a capire perché con la stessa macchina e schiacciamo tutte e due r2 prima che parte sei sempre più avanti più di me o comunque quando giochiamo con gli altri capisci perché non ho mai usato pochissimo non è mai caduto ok adesso vediamo ecco perché prima ci dava via anche quelli del ok cooperativa ok allora usiamo la metrare dove cazzo è ah mi ha dato una viper adesso bello senna la metrare senna ok in attesa di altri giocatori che poi gli altri sono il computer dobbiamo attendere il computer ok vediamo tu dici io sto già risparmendo a re 2 ok o dici di no eh c'è eh 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 mister c'è io sto già risparmendo a re 2 io sto già risparmendo a re 2 ok io sto già risparmendo a re 2 ok io sto già risparmendo a re 2 e io sto già risparmendo a re 2 e e e ti mando il video che ti fa vedere io devo capire se no cazzo me ne frega vedi terzo con quelli che sono la modalità più merdosa del gioco non faccio arrivare con la modalità più merdosa terzo capisci quello che voglio dire c'è qualcosa che non va vabbè ok ragazzi dai dopo questa eh ma sarà uguale facciamola con la golf tanto per ridere ma vedrai che sarà l'ultimo lo stesso bellissima la golf dove cazzo è ma in fondo la pista adesso siamo tutte le volte mi fa così sto gioco allora ragazzi io comincio già a salutarvi facciamo l'ultima per ridere con la golf e la dovrai affittare perché mi sa che tu non ce l'hai con la golf io vi saluto già ragazzi così finiamo la live e andiamo un po' su halo il multigiocatore ok allora vediamo di invitare il mister comunque io vi ringrazio che siete stati con noi ahia che bocca voglio fare la cooperativa perché io voglio dire anche gli altri capito? io voglio fare la cooperativa qui che c'è anche gli altri per farti vedere eccola qua bella gialla poi top eccola qua ma che bella del 98 e non puoi noleggiarla non poti la far noleggiare eh bravo quanta merda dai ok ragazzi finita la gara io vi saluto da Marco Drums Games seguitemi su Facebook Twitter, Instagram Twitter, Twitch Telegram che non uso mai e Discord che non uso mai tra l'altro lo integreranno nella Playstation Discord però l'hai saputo mister e niente non ce l'hai? ah prendi la mia no dobbiamo fare il test prendi la mia stiamo testando il gioco il gioco è bellissimo ragazzi il migliore il migliore che c'è in giro di questa categoria prendi la mia uguale che ti provi la Golf del 98 ah eh hai preso la RS tu bravo eh e niente mi raccomando di attivare la campanella mi piace e commentate su YouTube e Twitch ragazzi io sto già premendo R2 lo spacco vediamo io posso capire un filino perché ho messo l'antipattinamento quindi sai se uno parte normalmente senza antipattinamento in teoria dovrebbe andare un po' meglio no adesso ha un filo di senso comunque eh ma vedi ma a me non interessa te vedi gli altri dietro il computer ho capito ma perché se io prendo la Golf del 98 il computer sta dietro vedi un chilometro e quando prendo invece una zonta mi danno paga perché? qual è l'annesso? vabbè dai dici perché è una macchina di merda vanno piano più vai veloce il gioco diventa più difficile eh perché se no la scuola non ha senso vabbè dai finiamola qua che almeno ho vinto una gara almeno va bene ragazzi ci vediamo alla prossima saluto il mio amico mister ciao mister alla prossima stami bene ciao a tutti ragazzi allora devo avere